Già Luca Pessotto, nuovo ruolo all'interno della Juventus, responsabile organizzativo del settore giovanile, una bella avventura che comincia. Sì, beh, grande soddisfazione, grande soddisfazione di continuare a lavorare nella Juventus, di rimettermi in gioco in un nuovo ruolo, in un ruolo all'interno del settore giovanile che in questi ultimi anni ha ricoperto grande importanza per la Juventus e quindi è capitata questa opportunità, grande soddisfazione, un grazie alla società che ha pensato e mi ha dato l'opportunità di fare questa scelta. Quale sarà il tuo lavoro? Nello specifico ci puoi spiegare come organizzerai il settore giovanile bianconero? Devo dire che stiamo creando uno staff molto bello, pieno di entusiasmo, il responsabile del settore giovanile sarà Renzo Castagnini, quindi a lui spetterà l'ultima parola e condivideremo molto della gestione, per cui ci sarà di continuare solamente il grande lavoro che è stato fatto da chi mi ha preceduto. Il lavoro in questi ultimi anni fatto nel settore giovanile ha dato degli ottimi risultati in merito a giocatori che poi sono arrivati in prima squadra e alla luce di quella che è la filosofia della società nei prossimi anni ci sarà ancora da lavorare tanto, da sviluppare tanto, da crescere e far sì che il bacino del settore giovanile diventi sempre più importante anche per la prima squadra. Una cosa fondamentale per la Juventus è il settore giovanile, solamente quattro dei tanti nomi degli ultimi anni, De Ceglie, Marchisio, Giovinco e Ariaudo arrivati in prima squadra, questo sta a significare che il settore giovanile della Juventus non ha solamente tanti numeri ma anche tanta qualità. La qualità paga sempre, credo sia una caratteristica che non deve mai mancare in un settore giovanile, oltre alla formazione, in Juventus si stanno facendo tante cose non solo dal punto di vista tecnico ma anche dal punto di vista... Grazie a tutti!